In Puglia sono otto i comuni rifiuti free. Oltre ad aver raggiunto l'obiettivo minimo di differenziata al 65% fissato dalla legge, contengono entro i 75 kg all'anno per abitante il rifiuto secco conferito in discarica. Lo riporta il dossier di Lega Ambiente Comuni Ricicloni Puglia presentato a Bari nell'ambito della terza edizione dell'Ecoforum Economia Circolare e Lavori in Corso, organizzato da Lega Ambiente con il patrocinio di Assessorato regionale all'ambiente e la collaborazione di Acquedotto Pugliese. Far sistema, spiega Daniela Salcedo, direttrice di Lega Ambiente Puglia, è indispensabile. La raccolta differenziata non funziona se non c'è la collaborazione dei cittadini. Una raccolta differenziata non funziona se non ci sono gli impianti, cioè abbiamo bisogno che ciascuno faccia il suo. Abbiamo scelto volontariamente di coinvolgere in maniera importante le aziende che si occupano della raccolta differenziata, perché loro sono le nostre gambe. Ancora tanto da fare, tantissimo. Noi ci stiamo impegnando, non soltanto noi, tutte le amministrazioni. Oggi abbiamo necessità di incrementare la presenza della tariffa puntuale, abbiamo necessità che ci siano nuovi impianti, perché la Puglia è lunga. Non possiamo più pensare che i nostri rifiuti debbano camminare su gomma. La cornice è quella di una regione che spinge per il passaggio da economia lineare a gestionale per creare una connessione tra sistema produttivo e politiche ambientali. Stiamo spingendo molto sull'utilizzo dei sottoprodotti, perché ovviamente di fronte alla gestione dei rifiuti è chiaro, oramai è consolidata. L'idea è che i rifiuti più facili da gestire sono quelli che non vengono prodotti, quindi noi abbiamo la necessità di togliere quantitativi importanti di materiali di scarti dalla filiera dei rifiuti. Le raccolte differenziate rimangono per noi, per il nostro assessorato, il punto più importante nella gestione dei rifiuti. Parliamo di quantità di raccolte differenziate, ma anche di qualità. Oltre 10 milioni di euro sono stati investiti per finanziare la realizzazione di ulteriori centri comunali di raccolta, che sappiamo essere strutture strategiche per consentire un funzionale sviluppo delle raccolte differenziate. Non brillano per performance i comuni capoluogo. Solo Trani supera la soglia del 75% di differenziata. Io sono partito che avevamo il 22% di raccolta differenziata, quindi sicuramente la soddisfazione è massima. A che punto siamo? Siamo al punto che vogliamo sempre più migliorare, aumentare la percentuale di differenziata, ma soprattutto la qualità. Vogliamo anche aumentare le nostre percentuali e infine cominciare a introdurre le premialità, perché è anche giusto cominciare a premiare i cittadini più virtuosi. Cercare di produrre quanto, diciamo, portare soprattutto in discarica dell'indifferenziato quanto meno è possibile il rifiuto e la bravura sarà assolutamente far questo. La Puglia è tra le regioni nella parte bassa della classifica nazionale per percentuale di raccolta differenziata, con una media del 58,6%. Peggio solo Molise, Liguria, Campania, Lazio, Calabria e Sicilia. Non è tanto importante raccogliere in maniera differenziata ma l'effettivo riciclo, dogma sancito dalla normativa europea. Purtroppo la qualità della raccolta differenziata in generale di tutte le frazioni, sia secche che umide, sta peggiorando e stiamo tornando praticamente a quello che accadeva i primi anni in cui i comuni si sono approcciati con le raccolte. L'effettivo riciclo significa, appunto, per esempio nel caso dei rifiuti organici che diventino compost, che è un fertilizzante organico, ma significa anche che nei nostri impianti non devono arrivare altri rifiuti compostabili che non sono compostabili, quindi che si mischiano a quelli compostabili, che ovviamente non vengono compostati e alla fine ce li ritroviamo come scarti. Il rischio è quello di spostare il problema dai comuni agli impianti, superare i pregiudizi e il punto di ripartenza. Ci sono dei margini, dei grandi margini di miglioramento che può arrivare dalle grandi città, soprattutto da Foggia, Taranto e Bari. Devo dire che il PNRR ha dato un'opportunità insieme agli strumenti che mettiamo noi a disposizione all'interno dell'accordo quadro Anciconai. Rimane il punto sugli impianti, soprattutto per la frazione organica, di meno per gli imballaggi perché c'è un sistema imprenditoriale e industriale che è in grado di valorizzare in questa regione, su questo bisogna accelerare, però sulla parte di frazione organica.